colonnello giuliacci siamo lieti di annunciare al nostro pubblico che anche lei sarà tra i protagonisti della fiera di varese 2023 parleremo proprio di cambiamento climatico certo sarò ben lieto del vostro individuo anzi del quale vi invito va risotto una bella area dell'italia quindi sarà doppiamente contento di venire in un luogo bello e certo ovvio le mie competenze sono in ambito non solo previsione del tempo fisico dell'atmosfera e dei cambiamenti climatici si possono occupare con le dovute diciamo necessarie informazioni solo i fisici dell'atmosfera e quindi io sono là come un esperto detto che sono il più esperto un esperto che parla e cambiamenti climatici ciò che è avvenuto e ciò che purtroppo potrà avvenire nei decenni avvenire anche negli anni immediati avvenire bene quindi insomma noi l'aspettiamo aspettiamo anche tutto il nostro pubblico proprio per parlare con lei di cambiamento climatico con un focus sulla provincia di varese certo e se non vengono a tuoni fulmini assaiati a quelli che non vengono giusto giusto quindi venite i numerosi grazie no vi minasciamo 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 no vi minasciamo